Ecco ragazzi siamo qui online Io e finalmente mia figlia E' Fede, Federica Di qualcosa, saluta gli amici del canale Fede, ciao E' Federica Che giochiamo a forno in modalità coppie E' bello si Modalità coppie Che caldo ragazzi Oggi è la serata, la notte di San Frantico Di Santo Stefano, è vero? No cos'è? Che è Santo Stefano? Quello delle stelle, come si chiama? La notte di... Che notte è oggi? Di San Francesco Vabbè è la notte che delle stelle cadenti Ne abbiamo aperto la nostra finestra Però vabbè Speriamo di vedere le stelle cadenti Speriamo di vederle, dai Devo mettere pronto io Sto dormendo Fede, attacca il microfono Così i nostri amici ti sentono I vostri amici del canale Io sono sempre un ospite Forno e modalità coppie A quest'estate Se abbiamo giocato veramente niente Se abbiamo giocato veramente niente A Fortnite quest'estate Per me si chiama sul gommoncino O sulla sedia Dove vuoi? Sedi a sedia Sedi a sedia dove vuoi? Ora ti favo un gommoncino Purtroppo per questo questo Siamo pronti Il gommoncino si Sto molto piccato Che ti torni i piedi Che non sto cominciando Deliziate Vai Non mi piace fare quel baletto E vai Guardate che bella sta schermata Bellissimo A me non c'ho uno schermato di merda Oh che bello Noi facciamo diretto ragazzi Anche se perdiamo subito Non cancelliamo il video Facciamo tutto come Come si dice Come Dio comanda Facciamo un baletto insieme C'è un baletto insieme? Sì Pronti Dove sono i miei baletti insieme? Aspetta che li ho persi Aiuto 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 Gli ho persi tutti I baletti insieme Dove sono? Ormai parte l'autobus Dove sono i troppi Fede? A questo vai Uno via Questo è uno dei miei Questo è uno dei miei Questo no Questo è l'altro Facciamo questo Via Oddio Già partito l'autobus ragazzi Ma mi stava ballando davanti Dietro Mappa Dove andiamo? Mi ballava Andiamo qui al nostro Rapid Rischiose Drive-in Ti va? Facciamo qui? Sì Da modalità coppie Andiamo Io e i nostri amici Che hanno cambiato le finestre Ma ti senti? Se c'è il microfono Ti senti? Comunque ti sento? Sì Abbiamo cambiato le finestre Ah in casa Qui sì Dove abbiamo i computer Al secondo piano Sì Oggi ci hanno messo su le finestre nuove Non vi dico Io vado sullo schermo Ok Agli ordini Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Sto cadendo Mi piace? Dove è? Aspetta Non sto vedendo Non ti vedo Sto scendendo Che ci sono tornate le casse Perché ultimamente All'ex drive-in A volte c'è qualcosa A volte non c'è niente A volte dipende Qua arriva gente Che gusto Quanta roba Sta atterrando della gente Comun'arma Che non sono molto brava Compa 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 Medici Soprattutto le cure La cappa Prendono soltanto i colpi Aè Gusto C'è gente? Adesso arriva Oh vai via 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 Vai via Ignorante Addirittura Se l'hai fatta? L'ho visto là sotto? L'ho visto là dentro, là dentro, arrivo, dove sei amico mio, l'ho visto qua dentro, arriva, 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 è un attimo, è qui, ma sei un ciccione, ma sei un ciccione, vai col pompa blu, che culo, dov'è, è il ciccione anche da te, era lui? Sì, era un altro, era un altro, quindi sono in due, e dimmelo adesso, almeno costruivo, no? Sì, l'altro l'ho chiuso io. Ah, l'ho chiuso a te, fantastico, ora siamo in una braga di... Tieni, poi c'è il fuoco qui, eh? Sì, vabbè, allora dillo, e allora ditelo. Andiamo a prendere il ciccione, quella skin è veramente, scusate, ma a me non piace per niente, è la skin del ciccione, però aveva il pompa blu, gli ha chullato il pompa blu, va la grande. Ma c'è un nabbo, c'è un nabbo, ma c'è un nabbo qui davanti a me, il nabbo dei nabbi. Allora c'è un altro in giro dei nabboni. Prenditi, prenditi lo scildone, o è il tuo quello? No, io l'ho già messo... Ma prendi, non hai, non sei... Qua c'è un pompa se lo vuoi, eh? No, io c'ho già... Ho lasciato un pompa lì. Intanto c'ho il ciccione che dopo lo scambierà per un altro anno, perché io voglio... E qua un altro? Sono proprio smirata. Ma no, dicevo che c'era cos'è, c'è una gallina, c'è la gallina aliena, è vero che adesso qua ci sono gli alieni, perché noi siamo stati e abbiamo giocato veramente poca forne. E quindi quando siamo tornati, non sapevamo cos'è... Tenta che lei ti salti in faccia l'alieno, eh? No, non voglio... Non sapevamo ragazzi che c'erano questi alieni che ti... Ma c'è un alieno? Ah, io ho ammazzato una gallina che aveva il coso degli alieni, sì. Vediamo un po' la mappa, non ce n'ho anche guardato. Vabbè, dopo andiamo qua, dai. No, c'è un alieno. C'è un alieno, sì sì, qua ci sono gli scildoni. Tanto io raccolgo... Collezione uno scildoni, la grande. No, ma c'è qualcosa lì. C'è sì, sì, andiamo qua, vieni qua che ci sono le casse. C'è una cosa che salta lì che ti fa... Niente, è uguale, vieni, andiamo via. Non c'è un bel cappero. No, cappero, ci sono delle casse. I capperi... Prima eravamo a Lugo. La mia, la mia. Se li ho io, ne ho tre dei scildoni qua, non hai bisogno. No, mia, 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 qui è mio, mio, mio. Vai tu, vai tu, è pieno di cassi, vado di qua. Sì, ma io... Sì, vai, vai, tranquillo. Traietta! Oggi è proficuo qua, in genere non c'è così mai niente. Cos'è sta roba qui? Cos'è questo? È l'oggettificatore, raro. Prendi questo, provalo. Che cosa fa? Cosa fa? Oh, ti fa diventare un oggetto. Tielo, Tielo. Dove sono? Ecco, queste sono quelle cose che ancora non lo sapevamo. Perché in effetti ci abbiamo giocato poco quest'estate. Avremmo fatto 20 partite. Quindi ogni tanto scopriamo cose che noi, scusate, se magari rimaniamo un po'. Oh, cos'è? Vuole un cespuglio. Un cespuglio. Sono un cespuglio. Ma che bello. Tielo. Prendiamo una macchinetta. Non riesco a metterci dentro di me? No, non riesco. Taglio i fiori. Taglio i fiori. Non riesco. Che profumo. Sì, ma io. Mi ha tenuto tanto i capelli. Non è basta. Andiamo subito. Andiamo a farci un po' di materiale? Andare dentro? Dentro la casa. Andiamo a farci un po' di materiale. Non c'è quasi niente. Oh, mamma, ho visto una cosa bellissima da diventare. Distruggiamo tutto. Non so se stai distruggendo questo o no. Qual è? Questo. No, per tutto. Eh, ma ho il telefono. Ma guarda, ti faccio paura. Qua c'è un pompa. Ce l'hai il pompa? Mamma, girati, sei ferma, girati. Oddio. Che bello. Sono io. È bello. Ma a me non ci piacciono questi colori, lo sai. Perché quelli lì, un po' più a me, mi fanno paura. Mi mangio quello che non mi piace. È il rumore che fa i suoi cosi. Sono a casa per i cani. Mamma, entrami. Entra dentro di me. Dove sei? Ah, la cuccia per i cani. Ma che bella, dai. Mangio. Tieno, eh, tieno. Che serve per arrivare in finale questo qui, eh? Poi vimetizzarti. Beh, oh, si sa mai. Mi provo a diventare questa cosa. E cos'è? Tata, vieni. Andiamo qua, ho messo il ping. Ma che cosa è? Ho messo il ping. Andiamo qua. Non lo so. Quello cos'è? È un barile, qualcosa. Vabbè. Beh, intanto adesso me tu ci scusi, va bene? Vabbè, intanto noi andiamo. Prendiamo la macchinetta. La macchinetta. Ma facciamo questa storia. La storia del marshmallow. No, la storia triste sai qual è? Che oggi, fidiamo con i nostri amici di dire le cose, sono venuti a metterci sulle finestre dove abbiamo i computer. Non vi dico lo schifo di polvere. Infatti domani viene... È una polvere che sembrava vicenda dopo che hai fatto il casino. Infatti domani viene una mia amica che viene a dare una mano. È gentilissima. Ciao Nicoletta. Se vede, se ascolta il nostro video lo vedrà. Ciao Nicoletta. La salutiamo? Una gran brava ragazza e una cara amica. Dimmi. Se vanno a piedi. Lascia la macchina, vai. Perché posso mettere un testuglio? Vabbè adesso... Io non posso diventare... Però dopo un po' divento ferma, no? Non ho capito un po' niente. Boh, vabbè. Senti, intanto ci divertiamo. Vediamo un po'. Senta gli UFO che sparano. Sparano, sparano. Senta gli UFO che non mi notano. Non lo so. Hai mai visto un UFO che cammina? No. Intanto andiamo avanti. No. Ci bagniamo i piedi. Io voglio provare a muotare. Cosa succede? Mamma, no, guarda come muota un UFO che cammina. Ah sì, ma... Guarda. Ma hai visto un UFO che cammina? Guarda. C'è una rana. Nuova avvissamento. Andiamo su qua. Cosa c'è? Rane, rane. Territorio. Eh, c'è un pompa blu, vieni! Eh? Vieni qua, oh! Che c'è? Pompoblu! Piglialo, piglialo! Piglialo! Grande! Piglialo! Ma quest'arma non la voglio proprio scambiare con niente. Vai che fortuna! Come muota di gavi. Siamo entrati nella zona, 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 zona. Andiamo? Ragazzi, ragazzi. Ma poi ci... Allora... Ah, Freci... Ti spenderò un po' di oggetti. Tu dovrai dominare cosa sono. No, adesso giochiamo bene, dai. Sennò ti distraiamo, per favore. Sì, però... Giochiamo dopo. Adesso... Quali sono gli... Guarda che se ti vedono muovere, ti sparano, muori lo stesso. Eh? Non è che ti devi far vedere. Eh? Eh, se no... Non ti conviene mica. Adesso non voglio costruire. Mi chiedi, no. Andiamo nell'occhio. Andiamo a piedi. Sì, però... Andiamo di qua. Comunque... Non vediamo l'ora che scatti la nuova season, sono sincera. Non che non mi piaccia questa, però insomma... Non è che mi... Guarda, fai. La chiamola. Dai, vieni. Vieni, dai. Mi segui? Ah, ragazzi, la Federica adesso sta giocando con... Con mouse e tastierina. Da gamer. Sta diventando più brava a giocare a Forne. Davvero, sta migliorando. Poi ha sette anni, quindi. French... French... Aggiorniamo un po' i nostri amici. French ha abbandonato Forne. Ultimamente non gli piace più. Penso che tornerà con la season nuova. Però, per adesso... Camperiamo un po', dai. Quando siamo qua, facciamo un po' di campero. Non è che ne abbiamo bisogno. Però siamo rimasti in 29, dai. Ma il camper, in modo che non mi vedano. Ecco, fai un cespuglio con i fiori. Io mi metto qui. Esatto, guarda. Andiamo un po' qui. Dai, fanne morire un po' che arriviamo. Tanto siamo in zona perfetta che arriviamo... Sono sala cresso, non c'è spuglio. No, no, te stai ferma. Basta che stai ferma. Non entro dentro di me. No, però che stai ferma. Se ti muovi... Ecco il cespuglio, vedete? È lì il cespuglio. Oh, che bello. Che aria fresca che sta venendo, ragazzi. Oggi non so da voi. Da noi qua in Romagna era un caldo esagerato. Mi devi mettere questo. 35-36 gradi, non si vive. Non si vede più. Ti guardano, ti vedono così, eh. Ah, no, giusto. Eh, stai giù, se anche stai giù magari. Ti metti qui, vedi qui. Ti dico se vede qualcuno. È certo, sì, anch'io. Io giro di qua. Andami con il cespuglio, vieni, vieni. No, no, stai qui, Unato, stai ferma. C'è un cespuglio. Fai da dire che andavamo bene qui. Il cespuglio è meglio. No, no, io ho questo da via. C'è un fai. Stai ferma. Se stai ferma... Se c'è qualcuno... Ti dico di no, stai ferma, per favore. Stai giù, stai giù. Stai giù. Ecco. Stai lì. Fai i fiori, così sento... Mmm, che profumo da fiori. Buono. Ma vai, Vida. Buono. Ti mangio. Stai ferma, non saltare. Dai, siamo rimasti in 26. Dai, io voglio sempre arrivare a top, minimo top 10. Prima ci sono arrivate quattro. Oggi abbiamo fatto due partite a fuori. Questa è la seconda. C'è uno che sta atterrando, preparati. Svegliati, metti il pompa. Pompa. Attenta. Mi piace, fai i cari. Io sono diventata... 25. Vedete la zona? Andiamo bene, dai. Dopo andiamo a finire qua. Io andrei qua. Aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. 23 secondi, 22, due pescate la zona, quindi... Aspettiamo un attimo, vedete. Così, la tua testa è quadrata, io ti salto sopra, facciamo lo spaventa qua. Arriva un ufo, stai ferma. Stai giù. Se ti muovi, ti vede l'ufo? È un gioco, è l'ufo, magari non è... È il computer, non è sempre... Siamo ancora dentro la zona. Uno è là, stai giù, stai giù, che dentro di te c'è uno. Ferma. È là che è nato nella base, l'ho visto. Ma è un ufo. Mamma, sono sotto nel piatto, mi dovrebbe vedere. Sono ferma. Sono ferma. Sono un player su quello... Lo so, l'ho visto. Adesso è partito il player. Sono ferma. Sono ferma. Ti vede, mamma, sei bianco. Mamma, cosa fai? Andiamo via. Andiamo nel cespuglio, vieni. No, così mi nota perché sono verde, dentro il cespuglio, un cespuglio, dentro il cespuglio, non è visto. Quindi, allora, questo è un player, lo spara e sono io. Siamo dentro la zona. Dai, stiamo fermi. 20, 20, va benissimo. Sì, tanto che uno non viene dentro questo cespuglio perché vuole camperare, trova noi. Vabbè, ragazzi, se io sono, sono le 11 e mezza, ormai ero da andare a nanna, stasera, abbiamo fatto le ore piccole, arriva uno, c'è uno, c'è uno, occhio che c'è uno, c'è uno, esce, esce, si alzate il cespuglio, tanto così non si vede. No, non saltare. Andiamo qua, seguimi. È là, è là, l'ho visto? Qua, pure un desempio, un desempio di là. Siamo, 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 ma ti fai scoprire e basta. Andiamo, vieni. salta, salta, salta che ci spara, io non ho il cecco. C'è gente, c'è uno qui. Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, morto, vai. Vai bene, 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 medichi, vai, vai, la grande. Succa tutto, bene, bene. Vieni qua, vieni qua, dammi, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, stai sotto. Questa ci sale su, e sale, 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 sale su, e sopra, 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 e se poi cade, 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 cade giù. Non mi importa, mamma, ma piove? Sì. Che cosa sono state scintille? Mi puoi spiegare, come sono? Ah, capito, vuoi costruire una base, ho fatto una base, no, guardate, ho fatto una base piccolina, hai il pompa in mano, l'hai ricaricato? Sì. Riprendi il pompa blu, e caricalo, per favore, no, l'ascia, il pompa, stai qui, siamo in dieci, vai ragazzi, top dieci, top dieci, niente, blu, 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 usa quello viola, pompa, 10, 10, top dieci ragazzi, va benissimo, top dieci, siamo perfettamente nella zona, nella zona, lo so, queste sono le nostre, chi lo vedete, la Pia, la Fede, mia figlia Federica Pia, ne fate due, e anche io due, quindi siamo bravissime, o considerando che è una vita che non giochiamo a Fortnite, cioè lo so che molti ti diranno, io ne faccio 15, ne faccio 50, vabbè, non ci giochiamo mai noi, stiamo qui, poi fra un po' usciamo, siamo completamente in centro zona, no, Fede, che cazzo fai, c'è uno, c'è uno, c'è uno, aspetta, 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 dov'è sta arrivando gente, uguale, 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 usciamo, vai, io esco, se li fai bene, fai bene, esci, tanto così, se no ci vedono, uno l'ho visto, uno è qua, sono due, vai, è morto, vai, due ammazzati, chi, guardate ragazzi, guardate, ragazzi, ammirate, doppia eliminazione, pompa blu, marshmallow, doppio scildone, prendili tutti, quello che facevi prima, vai la grande, fede andiamo su, vieni su, vieni su, vieni su, e uno è qua, è qua, l'ho visto, è qua sotto, occhio, sono doppi, sono doppi, sono doppi, vai, bastardo, muori, morto, grande raga, grande, vai, dai, tira, 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 no, bastardo, c'è l'alieno, dove, dov'è quello che, ucciso, attenti, siamo in due contro due, fede, siamo due contro due, ma, mamma, non vede lo cindone in mezzo, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, eh, cos'ho visto ragazzi, P90, me l'ero dormita, ma gli animi che si sono risvegliati, grande, andiamo qua, fede, seguimi, seguimi, siamo nella donna ragazzi, andiamo su, vieni, costruiamo, oh, c'è l'albero in mezzo, ah, ah, che amare, sono arrivati, in macchina, hanno la macchina, ok, perfetto, quest'albero, li prenderà con la macchina, come gli eri, ti ricordi? insomma, no, no, non lo so, non mi sa che è fuori, è fuori da, io so la jump, andiamo, mettiamo la jump, sì, mettiamola già, no, 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 sono sopra di noi, no, mi hanno preso, cecchinata, fede, vai sotto, no, sono qua di dietro, dietro di te, scappa, vai dietro, nasconditi dall'albero, nasconditi dietro l'albero, nasconditi dove sono io dietro l'albero, si stanno cecchinando da dietro, devi venire qui, sono davanti, è dietro di te, è dietro, cosa fai, sparagli, sparagli, vai, l'hai preso, vieni qui, uccidilo, vai, vieni, rissami, dai che ce la facciamo, rissami, scopriti, vai, vai che sei rimasti, dai, ce la puoi fare, no, vai che ce la fai, continua, dov'è sto figlio di puta, al cecco, al cecco, è là, l'ho visto, bastardo, 28, 43, vai che l'ho visto, bastardo, figlio di puta, fede, dove sei, attenta, lì, è al cecco, occhio, uccidilo, mi sono fatto il medikit, dov'è sto finocchione, questo è un bastardo, dov'è? occhio che ha il cecco questo qui, salta, salta sempre, è bravo, io sono brava però, fede, salta, mettiamo la cosa, l'ho visto, vai, vai, alla grande, ragazzi, ragazzi, non me frega niente, se già vai, l'incesto, vada e basta, oh, l'avevo detto, che eravamo migliorata, grande, fede, fede, grande, ce l'ho detto, sette anni, guarda, fai vedere la tastierina, con cui giochi, guardate, tastierina, e mouse, vado a vedere, non si vede, fai vedere la tastierina, guardate, sette anni, come è bravo a giocare a forno, grande, troppo gusto, vai, ogni più, sei il prima, seASE, a me, anemigrò,